Sono due settimane che come al solito noi facciamo perfettamente le cose, abbiamo avviato tutti i permessi burocratici per richiedere Piazza del Gesù dove domani sarà il grande evento di chiusura della campagna elettorale nostra e quindi del Movimento 5 Stelle. Questa mattina mancava una firma su un documento per l'autorizzazione della piazza, una firma tecnico dell'ufficio di viabilità e non si capisce come è possibile che ad un giorno non c'era questa firma qua. Quindi al di là di dietrologia abbiamo mandato un messaggio in rete, siamo tutti corsi qui al comune sotto Palazzo San Giacomo siamo entrati nell'ufficio e immediatamente dopo che abbiamo fatto un po' di pressione e abbiamo detto quello che era giusto e quindi far valere i nostri diritti come Movimento Cittadino e Movimento Politico subito sono uscite le firme, sono uscite i permessi ed erano tutti a disposizione. Questo lo diciamo anche per il futuro, per tutte le persone che vogliono fare per bene le cose quando tu fai le cose per bene poi puoi far valere i propri diritti senza ricatto e domani abbiamo un evento perfetto.